Sì, devo dire che per quanto riguarda la ciclovia del Foglia siamo nei mesi decisivi, nel senso che la regione Marche ha segnato il progetto esecutivo. È un passaggio importante perché dopo aver approvato il progetto preliminare che consentiva di individuare il percorso e di poter avviare le procedure spropriative, ora con un progetto definitivo ed esecutivo riusciremo a capire bene dove passerà questa pista ciclabile. L'investimento che la regione Marche ha messo in campo è di 5 milioni e mezzo di euro, sarà il proseguimento della ciclabile che è lungo il fiume Foglia, c'è quello che parte dal ponte Vecchio a Pesero che arriva attualmente fino al galoppatoio, cioè dove c'è l'area per i cavalli. Il percorso ciclabile proseguirà passando per Valle Foglia, i vari centri abitati, il rio Salso, Borgo Massano, fino a Casinina di Auditore. Il percorso non sarà completamente lungo il fiume, ma a volte passerà vicino alle zone artigianali, vicino ai centri abitati, perché riteniamo che questa debba essere una vera e propria ciclovia, che se da una parte sarà importante per tutte le persone che vivono in quel territorio per potersi spostare a livello quotidiano per andare al lavoro, per andare a scuola, per andare a trovare un amico, ma avrà anche una funzione di tipo turistico, cioè noi ci auguriamo che venga utilizzata da tante persone che vengono in vacanza nel nostro territorio, anche per visitarlo utilizzando la bicicletta. Attualmente mi sono sentito con i comuni, i comuni stanno avviando le procedure espropriative, che sono importanti, perché questo è un percorso ciclabile che in parte va in area del Magnale, ma in parte utilizza le aree private. L'obiettivo è quello di avere il progetto entro il mese di luglio, poi ovviamente occorrerà verificare se tutto va bene e poi avviare la gara. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a partire o per la fine dell'anno, ma penso che si riuscirà a partire probabilmente per i primi mesi del 2022.